Torno agli appuntamenti organizzati dall'Associazione Cultura Nazionale con le eccellenze italiane. Questa volta un appuntamento con un grande chef. Un grande chef è Pietro Parisi che viene ad Arezzo per la prima volta. Arezzo è ancora protagonista grazie a Cultura Nazionale, viene a raccontare la sua storia di chef stellato che ha lavorato con i più grandi chef del mondo, che ha cucinato per Obama, che ha cucinato per Hollande, per il Santo Padre, per Mattarella, per Sarkozy, quindi palati fini, ma lui ha rifiutato le stelle Michelin di girare il mondo e ha preferito valorizzare e aprire i ristoranti nella terra dei fuochi, una terra difficile. Lui viene a raccontare la sua storia, lui era un obeso, ha perso 130 kg e viene a raccontare anche la sua storia di una terra difficile. Lui combatte tutti i giorni con la camorra che gli chiede il pizzo, lui li butta fuori dal locale e per questo riceve minacce ogni giorno. Quindi viene a raccontare la storia, la storia di un italiano vero che non piega la testa, di un italiano che porta in alto le eccellenze italiane. Ecco, ricordiamo l'appuntamento. È lunedì 16 alla Feltrinelli, 16 gennaio, alla Feltrinelli Ponte di via Garibaldi ad Arezzo alle ore 21. Vi aspettiamo tutti perché ci darà anche delle chicche culinarie, delle ricette che potrete fare nelle vostre cucine. presenterà il suo libro, infatti, e soprattutto le sue ricette. Le sue ricette, il suo libro, la sua esperienza di vita, per cui, come dire, siamo tutti grandi appassionati di cucina, per cui non potete mancare anche per fare una grande cornice a un grande italiano.